è sera e l'orsetto non riesce a prendere sonno da qualche tempo è molto impaziente quando arriva natale chiede alla mamma per la centesima volta pazienza risponde lei domani sarà il primo di dicembre e ti racconterò la prima storia di un bel libro poi te ne racconterò una ogni giorno fino a natale e sarà come iniziare un lungo viaggio verso betlemme la città dove è nato gesù l'orsetto è più sveglio che mai è tanto lontana betlemme quando arriveremo domanda mamma orsa sorride arriveremo fra 24 storie l'orsetto non è convinto e poi sarà natale davvero sì per davvero risponde la mamma dandogli un bacetto sul naso e adesso dormi orsetto mio e adesso dormi orsetto mio